Hola, io sono Alessia e benvenuti sul mio canale e lui è Kiwi Ciao Kiwi! Ho già fatto un video con lui, vero, 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 sì e oggi volevo farvi vedere ciò che... la gabbia di Kiwi intanto volevo farvi vedere del mio pappagallo inseparabile volevo farvi vedere come... come e a che ora gli metto da mangiare che cosa gli do da mangiare e poi volevo farvi vedere come la pulisco sostanzialmente io la pulisco una volta ogni 15 giorni quindi non sempre mentre da mangiare io la metto tutti i giorni ovviamente e... questa è una gabbia comunque abbastanza grande per lui perchè ora se riesco ve lo faccio vedere da dentro vieni ok vai, ok cioè vedete che comunque è molto grande per lui quindi andrebbe bene anche per calopsidi o parrucchetti io a lui vorrei prendergli una compagna ma sto aspettando che cresci ancora un altro po' perchè ha ancora 7-8 mesi lui e... questa appunto ha l'apertura più grande e una più piccolina dove lui magari dice mi fa giocare con questo fresco stasera no e... e poi ha un'altra porta molto grande un attimo vi faccio vedere ha un'altra porta qui che si apre così questa è carissima e qui allora la gabbia l'ho presa su Tuzio Plus l'ho pagata sui 130 euro mi pare la spedizione perfetta e il montaggio si può fare io ho chiesto una mano a mio padre ma comunque perfetto a parte i miei di qui che io le ho trovate scomode e piccole le ho cambiate come se io ho più lunghe per la porta ma perfetto è arrivato con due bastoni uno più lungo che io ho deciso di mettere qua dentro che non ho levato che non dovrò rimettere e uno più piccolo che in questo qua in realtà entra soltanto qui questo... la porta è stata creata per... ora non riesco a metterlo giustamente potreste metterlo? aspettate che ci sono quasi ok è stata creata come posto d'odio ma non so se ci può andare quindi queste sono le porte che ha dopodichè è arrivata con quattro ciotoline di questo tipo in acciaglio perfette per i barrocchetti ed infine ha qui degli sportelli laterali per aprire comodamente senza adattare ad infastire il pappacallo che è dentro per prelevare la ciotolina cambiati da mangiare e mettere più l'acqua e tutto il resto di filare e filare quindi questa cosa delle porticine laterali è veramente veramente comoda vedete che adesso vi faccio vedere da che cosa è composta ha innanzitutto io gli ho comprato in realtà l'ha regalato una mia amica per lui ho fatto regalare pure a Zara questa mia amica Giulia di Joy World comunque c'è questa altalena tutta colorata che lui adora da impazzire lui dorme la sera sul sopra l'altalena e certe volte ci mitica anche ma comunque mi piace veramente tanto dopo di che le ho comprato questa scaletta per fare un po' di movimento comunque anche lì ci sta abbastanza non tantissimo in realtà ed infine questa cosa gli ho messo io che è praticamente un laccio dove io poi all'estremità in alto gli leggo perché dipende da lui che sta lì a dondolare sulla mangiata lì invece alla fine all'estremità gli ho messo il tappo da sopra perché lui sta mozzicando tutto e anche con questo per passare un po' di zampo i zampini di diversa grandezza per le zampine perché è importante né troppo grandi né troppo piccoli mi raccomando poi magari alternarli ed infine ho questo rosso di sempia che è importante per tutti i pappadalli adesso vi faccio vedere cosa mangia lui allora dopo aver svuotato le due ciotoline del cibo questo ogni sera io prendo una sua pezzettina vado intanto a svuotare bene il tuolo dell'acqua e lo risciacquo un po' così dopodichè bagno la spugnetta ci passo anche la spugnetta dentro per pulirlo un po' meglio che esce un bel po' di zozzeria comunque quindi vado a pulire la spugnetta si la spugnetta vado a pulire la ciotola lo risciacquo lo risciacquo mentre il kiwi si è nascosto sotto la mia maglia e lascio un attimo asciugarlo a lecchi ok poi vado a prendere le altre due bagno anche queste e faccio lo stesso lavoro per levare magari qualche cacchetta perchè lui fa le cacchette anche qui il telefono perfetto dopodichè solitamente gli do una asciugata veloce più che altro esternamente e infine uno la riempio d'acqua niente mi sa che oggi c'è voglia di fare un bagnetto e le altre due andiamo a mettere il cibo e ora vi faccio vedere come allora adesso è arrivata l'ora della pappa io i primi alimenti che ho preso per lui sono stati questi due i semini di Prestige si pezzi si io la chiamo pappetta ed è praticamente questo adesso glielo sto usando molto di meno vedo perchè lo gradisce di meno ogni tanto glielo provo a rimettere ma se non va niente comunque di questo bisogna prendere un cucchiaio versarlo dentro e mischiarlo con un po' d'acqua mi raccomando non tanta acqua adesso io gli metto poi gli ho preso anche questi che ho visto che comunque gli piacciono molto anche se preferisce quelli però questi sono diciamo proprio loro perchè i gli inseparabili vengono dall'Africa e comunque ha un sacco di vitamine e frutta cosa che di là non c'è ci stanno molti semi di girasole cosa? semi di girasole e comunque vado a somministrare un cucchiaio e lo vado ad inserire nella prima ciotola dopo di che prendo l'altro perchè io adesso glielo mischio ma mischio ma potrei benissimo decidere di mettergli due io comunque gli ne do due cucchiai al giorno quindi uno di quello e uno di quest'altro io decido di far così e glielo metto nell'altra ciotolina quindi vado a mettere queste nella gabbia più una di questa e prima che se vi è piaciuto se è così lasciate un bel pollice in su chi vi ha detto lasciate un bel pollice in su e scrivete sotto giù nei commenti se anche voi avete un bel pappagallino che gabbie avete come fate magari per pulire la gabbia non lo so quindi niente chi vi adesso si farà una bella passeggiata per tutta casa come ogni sera un bacione grande grazie mille per aver guardato il video iscrivetevi al canale mi raccomando per tanti ben nuovi video con i miei animali un bacio enorme e al prossimo video buona vita fai tu una chiusura chi vi ciao